Picciotti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo delle 10, come dire, convinzioni che una fetta non trascurabile del fandom di One Piece si è erroneamente fatta. Ovviamente si tratta di convinzioni che sì sono diffuse, ma che non riguardano, per fortuna, tutto il fandom. Quindi non venite a scrivere cose del tipo, ma io non l'ho mai pensato una cosa del genere, né il mio miglior amico, né la mia fidanzata, né il mio cugino. Insomma, non abbiamo fatto un'indagine statistica per capire quanto effettivamente sia ampio il bacino di fan che pensa erroneamente una determinata cosa. Quindi prendete tutto alla leggenda. Adesso sigla e poi si comincia. Al decimo posto abbiamo Kuina. Sarò sincero, più volte sono stato indeciso se inserirla o meno, perché in quest'unico caso, a differenza delle altre posizioni, non abbiamo una certezza che le cose siano andate in un altro modo. Infatti per questo motivo ho deciso di darle la decima posizione. Kuina, la migliore amica di Zoro, era una ragazza molto più brava del suo amico, ma afflitta dalla consapevolezza di non poter raggiungere le capacità fisiche che invece il suo amico rivale aveva e avrebbe avuto in futuro. Il giorno dopo la promessa che si fecero, e cioè che uno di loro sarebbe diventato il migliore o la migliore spadaccino o spadaccina al mondo, Kuina cade dalle scale e morì. Ufficialmente sappiamo questo, però a dir la verità penso sia stato un modo per intendere qualcosa di diverso che però il maestro non ha voluto dire esplicitamente. Questa fantomatica caduta dalle scale reputo che sia stata una bugia per un bambino che non avrebbe sopportato la dura verità sulla sua cara amica. Ma non trattandosi, ripeto, di una cosa per cui possiamo esserne certi, queste sono solo delle illazioni. E per questo do la decima posizione. Al nono posto abbiamo il nuovo cappello di Chopper. Ho detto Chopper? Ok, perfetto. Pur essendo qualcosa che non ho visto essere così tanto condivisa, e infatti per questo motivo si becca la nona posizione, comunque c'è chi all'interno della community crede che la nostra renna preferita abbia cambiato cappello dopo il timeskip. Ebbene no. Chopper continua ad indossare con orgoglio il cappello rosso regalatogli dal dottore Iri Look, a cui è legatissimo. Semplicemente adesso è rivestito da una cuffietta blu che conferisce al Nakama un'area più casual, ma il cappello rosso rimane tuttora saldamente ancorato alle sue corna. Fiondiamoci all'ottava posizione, occupata da One Piece e i draghi. Nel corso del manga, le uniche volte a cui abbiamo assistito a questa affascinantissima creatura è stato a Pankazard, ma si trattava di un drago creato in laboratorio dal geno di Vegapunk, e quando abbiamo visto la forma animale dell'imperatore Kaido, il quale sfruttava il potere dell'uo uono mi, modello Seiryu. Quindi, fino ad ora, non abbiamo mai assistito a delle creature di questo tipo, se non fosse stato per degli episodi filler dell'anime, che hanno introdotto i draghi. Per essere specifici, i Sennenryu, visti nella saga di Worship. Ma poi quanto è brutto? Sembra la versione barbuta e sfigata di Falcorm, il drago della storia infinita. Bah. Ma proseguiamo con le altre posizioni in classifica. Non voglio dilungarmi più di tanto nel dissare l'anime. Oh no, aspettate. Anche in questa posizione vediamo false credenze scaturite dall'anime. Oh poveri noi. In un episodio filler dell'anime, specificamente durante la saga di Arabasta, l'anime ha avuto la geniale idea di inserire un elemento così importante e raro, cioè il Pogne Grif, in un episodio che non è mai esistito nel manga, creando una confusione pazzesca per chi non sa che alcuni episodi non siano canonici. Addirittura c'è chi pensa che questo Pogne Grif possa avere chissà quale risvolto di tramo da qui in avanti. Passiamo alla posizione successiva, va? Questa cosa ha dell'incredibile. Ebbene, sul volto di Oda c'è una confusione enorme. Più confusione che nei parlamentari durante le elezioni del Quirinale. Il volto di Oda ha quasi più misteri dei misteri di One Piece. Ho detto quasi, eh? In molti credono che questo sia il volto di Oda. Eccolo il nostro sensei preferito. Mi raccomando, non scambiatelo più per qualcun altro. Ci avviciniamo alle posizioni alte. Alla quinta posizione abbiamo qualcosa che è diffusissima, e cioè il fatto che Bonchan, ex Mr. Chu della Baroque Wars, sia morto. Ebbene no. Anche se si poteva pensare che avesse fatto una brutta fine al termine dell'arco di Infeldown, quando era davanti ad un infuriato Magellan, in una mini-avventura, e in particolare in quella del capitolo 666, lo vediamo nel livello 5.5. Chissà che anche lui non lo rivedremo per la guerra finale. E al quarto posto abbiamo lo scontro tra Barba Bianca e l'allora ammiraglio Akainu. Vi prego, vi prego, non voglio far partire l'ennesimo dibattito su questo scontro. Quello che voglio dire è che molti sono convinti, e ciò per via dell'adattamento dell'anime, che lo scontro fosse stato vinto nettamente da Barba Bianca, quando in realtà si vede chiaramente leggendo il manga che sia stato abbastanza equilibrato. Ma ognuno creda ciò che vuole. Ho notato in diversi video che mettere in discussione alcune convinzioni è veramente arduo, e ciò a maggior ragione quando si tratta di personaggi amati come Newgate, amato, per inciso, anche dal sottoscritto. E siamo sul podio. Al terzo posto c'è Douglas Ballet e la sua presenza nei Pirati di Roger. Quando l'anno scorso facemmo uscire il video sui Pirati di Roger, tutto poteva immaginarmi, ma proprio tutto, ma non tutti questi commenti su Ballet. Apriamo bene le orecchie. Ballet è un personaggio non canonico del film Stampede, ergo non ha mai fatto parte della ciurma di Roger. Infatti, guarda caso, nel flashback di Roger che abbiamo visto nell'anime e letto nel manga, non è presente. Inoltre non c'è mai stato un solo personaggio all'interno dell'opera che lo abbia nominato mezza volta. Mi spiace Ballet, ma non esisti. La community di One Piece è un mondo meraviglioso. Se nella posizione precedente c'era la convinzione che un personaggio non canonico lo fosse, qui abbiamo l'esatto opposto. C'è chi pensa, sbagliando, che l'arco di Long Ring Long Land sia filler, e invece no. Pur essendoci dei momenti filler in quell'arco, così come in tutti gli altri del resto, rimane comunque canonico. Certo, saltarlo non è grave quanto saltare Skypiea, una delle migliori seghe di One Piece, però rimane comunque un errore concettuale saltare Long Ring Long Land. Ed eccoci infine alla prima posizione, la falsa credenza che Dragon abbia la taglia più alta in One Piece. Anche questa cosa, come con Ballet, ha praticamente monopolizzato la sezione commenti di un nostro video, stavolta quello sulle 20 taglie più alte in One Piece. Innanzitutto, togliamoci dalla testa il fatto che abbia una taglia nota, con un valore preciso. In secondo luogo non è assolutamente detto, pur essendo probabile, che il numero uno dell'armata abbia la taglia più alta tra quelle note. Di lui sappiamo che sia il peggior criminale al mondo, ma ciò non implica che sia anche la persona più ricercata della storia, oltre al fatto che non sappiamo bene cosa intendano con peggior. Il criminale più determinato? Il più crudele? Il più pericoloso? Non ci è dato saperlo. Ciò che invece sappiamo è che il video termina qui. Se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi al canale attivando la campanella. Noi ci vediamo alla prossima qui su MyAnimeAccademia. Sayonara! Bene ragazzi, il video termina qui. Speriamo che vi sia piaciuto. Se così fosse lasciate un like, condividete e iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video. Sayonara!